Ormai ci siamo, mancano solamente due settimane e andremo a vedere la nuova season 4 All'interno della mappa e nascosti nei file di gioco ci sono davvero tanti segreti inerenti a questa nuova season Mettetevi comodi perché all'interno di questo video vi andrò a svelare una mia personalissima teoria Mi raccomando iscrivetevi al canale attivando la campanellina delle notifiche Subito un bel like furbetto per questo video E all'interno del negozio oggetti ve lo ricordo come sempre il codice più bello del centro Italia R4SCO Inseritelo anche voi perché in questa nuova season 4 andrò a regalare una marea di pass battaglia Sto pensando proprio a 100 pass battaglia ma in seguito vi dirò come farete a partecipare a questo mega contest Mi raccomando perciò inserisci anche tu R4SCO all'interno del tuo supporto a un creatore Direi che la skin ce l'abbiamo, il backpack è accattivante, il piccone è quello giusto, il deltaplan è quello che piace a noi La scia è randomatica e profumata, amici miei ci spostiamo all'interno della modalità play Andiamo a mettere singolo perciò 3, 2, 1, le costrago Vamos! Subito cestina, attenzione piccolini default, mitraglietta buona Qua sotto l'avevo visto, eccolo qui Il nostro bel pump, me lo vado subito a prendere onde evitare strani imprevisti Cioè che non lo trovo mai in pratica Buono questo R, gustosissimo Andiamo con questa cestarella Siamo in cerca di scildini Vediamo se la cesta sul letto ci grazia Eh, scildone, so nice Ok, benissimo, non vedo il mio inventario Andiamo così a fortuna Togliamo questa granata, prendiamo il caccia E ora, ultima possibilità per i scildini Ultima chiamata, scildini Ah, però non male, abbiamo maxato il nostro R, buono Attenzione, il blef del blef Ultima chiamata ufficiale, scildone Ho 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 Ma che benessere, amici miei Mi raccomando il mio supporto a un creatore R4, sco Questa è la potenza del mio supporto a un creatore Ve l'ho fatta vedere un pochettina Ok, bene, finalmente è tornato il nostro piccone official E, oh mio Dio, mi hanno cecchinato Non so da dove Vediamo, vediamo, vediamo Diamo una rapida occhiata Non è che mi hanno cecchinato da fuori, no? Si è già nascosto Ok, va Oh, 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 eccolo qua Che cosa diavolo? No Lisciato completamente il colpo Però un bel 46 l'ho tolta Amico mio Non ci provare Non ti avvicinare Qui non si passa, amico mio Occhio, si stanno sparando C'è anche un elicottero che è atterrato qui sulla sinistra Ci sono macchine Insomma, la classica città di Lago Languito Il caos puro Occhio, una macchina sta venendo di qua però E la... No, dai L'ho preso in faccia pienamente Ok, io mi sono portato dietro delle belle eschette Nel mentre c'è questo flayer Che sembra molto agguerrito Occhio, 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 occhio No, lo dobbiamo andare a prendere Anzi, no, aspettiamo, aspettiamo, aspettiamo Ok, c'è anche quest'altro tizio L'abbiamo tipo distrutto Siamo attenti Lì l'hanno killato uno Vediamo questo essere qui Che cosa vuole combinare Dai, dai, dai Esci fuori con questa testolina Maledetto Non possiamo aspettare così tanto tempo Vediamo Ah, eccolo È uscito fuori ora, eh Dai Dai che ti aspetto, dai Maledetto Di nuovo Mi ha fatto un altro blef Occhio all'elicottero Che probabilmente è dalla nostra parte Sì, se la sta prendendo No, elicottero Sei o non sei No, elicottero Maledetto Meno male che eri dalla nostra parte Tu, eh Cattivo vichingo viscido schifoso Ti killo così, allora Ti ho detto che dovevi essere dalla nostra parte Ma sei proprio un Un faggiano Oh, oh, oh Non mi fate esplodere l'elicotterino Oh mio Dio Me l'hanno fatto esplodere Questo pamper non ci interessa No, no È il momento delle esche È il momento delle esche Del caos totale Ok Stiamocene qua per un momento Cerchiamo di capire com'è la situazione C'è un tizio all'interno All'interno Della Ma Ma cosa stava facendo Quell'individuo all'interno Della macchina Ma Cosa diavolo stava facendo Ma Sono più di uno Era un Ma Cosa Cosa era Si stava facendo un sonnellino All'interno della sua vettura Stanno succedendo cose strane Da quando hanno messo queste macchine in game Che tra l'altro Dal momento che hanno messo le macchine in game Fortnite ci ha rivelato Questa immagine qui Un'immagine molto molto esclusiva In quanto nasconde al suo interno dei segreti Già ne abbiamo parlato in un video precedente Però se lo andiamo ad analizzare ora Probabilmente diverse cose diventeranno più chiare Guardate sopra il camion Abbiamo il nostro scagnozzo Lo scagnozzo che era presente all'interno Che è tuttora presente all'interno dell'autorità La fortia E di gatto Grill Che molto probabilmente verrà implementato All'interno dello shop In questa season qua Poi abbiamo un oggetto Che abbiamo visto solo all'interno della modalità creativa Ovviamente mi sto riferendo a questa torcia Infatti credo proprio che all'interno della nuova season 4 Andranno ad introdurre sia la torcia Ma anche molto probabilmente la luce In questo caso lo vediamo nella modalità creativa Sotto alle pistole Perché se vanno ad introdurre luoghi più dark Più oscuri all'interno della mappa Ci serve per forza una lucina sotto alle nostre armi di sostegno Ma non è finita qui perché Fosca Fiabba in versione estiva Sta impugnando una Desert Eagle E anche quest'arma credo proprio che la vedremo all'interno della nuova season 4 Quindi tenetevi pronti perché ci sarà il ritorno di queste armi Che abbiamo già visto tra cui la Deagle E anche il pompa orso che la sta usando la skin galaxy Che molti di voi già l'hanno potuto provare All'interno della modalità salve il mondo A proposito di modalità Devo andare ad introdurre Intanto io ho trovato un bel lama furbetto Che mi vado subito ad aprire La modalità disegnata ai taxi In pratica dobbiamo prendere dei passeggeri E portarli nella loro destinazione Quindi una sorta come quella challenge Che abbiamo visto che partirà da corso commercio E dovevamo portare Anzi dovevamo andare Dovevamo arrivare a parco pacifico Vediamo un po' dentro questo lama che cosa troviamo Oh mio dio ma quanto legno aveva quel tizio Che era sdraiato nella macchina Ma a proposito di nuova season 4 Amici miei ma voi vi ricordate il trailer Della season 4 del capitolo 1 di Fortnite? Beh ecco credo che ci sia un nesso Tra questa season qua e la nuova season 4 Capitolo 2 che andremo a vedere Tra meno di due settimane In quanto qui il tema principale Erano queste meteoriti che cadevano Ed andavano ad impattare contro il territorio Ma anche era il tema dei supereroi Degli eroi infatti abbiamo potuto vedere Carburo come protagonista Diciamo e Omega come protagonista Antagonista scusate di Carburo Beh ecco credo che ci sia un forte nesso Tra la vecchia season 4 e la nuova season 4 In quanto utilizzando un po' di fantasia I meteoriti possono essere tranquillamente Rappresentati dalla navicella di Siona Che come abbiamo potuto vedere È atterrata in modo totalmente casuale All'interno del game È ripartita per compiere una sua missione segreta È ritornata però la skin di Siona E anche di Deo La versione maschile di Siona Non erano presenti all'interno della navicella Ma la cosa clue di questa mia personalissima teoria È che come sappiamo C'è un giornaletto Marvel Che sta apparendo all'interno delle lobby Di diversi player da Xbox e da Playstation E ci sono due personaggi chiavi Da una parte possiamo vedere Galactus E dall'altra parte Thor Tra l'altro Galactus L'abbiamo potuto vedere anche all'interno Di un file audio Analizzando lo spectrogramma Appunto è uscita la sagoma proprio di Galactus Che nei fumetti viene rappresentato Come il divoratore di mondi Quindi avete presente Thor E l'evento che c'è stato con Thor? Beh ecco Galactus è 74.000 volte più forte di Thor Perché la sua colazione sono appunto I mondi e i pianeti Quindi credo proprio che ci sia un forte nesso Tra la season 4 capitolo 1 Che abbiamo visto E la nuova season 4 capitolo 2 Che andremo a vedere tra qualche giorno Infatti se da una parte si trattava di eroi Anche in quest'altra nuova season 4 Si tratterà proprio di eroi Dobbiamo solamente capire come verranno impiegati All'interno di questa nuova season Si parla molto probabilmente Galactus e Thor Saranno delle skin all'interno del pass battaglia Però ho visto anche diversi leakers Che parlavano magari di una skin segreta Esattamente come il personaggio di Tony Stark Ovviamente mi sto riferendo a Iron Man E quindi al conseguimento di ogni settimana di challenge Magari andiamo a maxare il nostro Iron Man Essendo che ci sono tantissime coperture Tantissime skin Tantissimi stili A partire da quando era intriappolata all'interno della grotta Fino al costume definitivo Con 7000 accessori del vero Iron Man Oppure attenzione ci potrebbero essere anche dei pacchetti Fortnite ha già collaborato con Marvel e DC E per l'appunto sto parlando di un pacchetto Dove al suo interno potremmo trovare la skin di Wolverine Non sarebbe affatto male avere Wolverine in game Intanto questa macchina furbetta ci sta andando addosso Ci sta venendo addosso Ma ho sentito anche qualcuno che c'ha tipo Oh 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 State tranquilli State calmi Aia 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 Questo colpo l'ho accusato Oh mio Dio no Non ci posso credere Siamo ufficialmente morti amici miei Sì 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 Siamo ufficialmente morti No good for me Possiamo inventarci solo una cosa se ci va bene questa jump furbetta Ok ci è andata malissimo Oh no 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 Ti prego ti prego ti prego ti prego ti prego Ok siamo tipo una sorta di mezzi salvi Siamo per morire amici No non voglio che finisca qui Oh cosa? Top 5? Ma quando ci siamo arrivati in top 5 non mi sono reso conto di niente Comunque jump e si va a fare il devasto Come va va non mi interessa più niente Occhio però occhio Ok 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 Vorrei tanto un bel medikit E vorrei anche killare qualcuno di questi vichinghi e balordi Tipo questo tizio che spero uscirà da qui Ok Va bene anche lì eh amico mio 91 No quello è redshot Ok siamo molto attenti quel tizio Lo sa che lo possiamo cerchionare in qualsiasi momento Però anche a me non mi piace tanto Ho visto che però c'è qualcuno qui che ha l'arma di kit Quindi dovrebbe essere molto molto temibile e molto forte Credo sia bunkerato qua dentro Noi nel mentre siamo belli puliti in safe L'unico problema è che non abbiamo affatto vita Comunque ci boxiamo qui Tanto siamo proprio al centro della safe Ok Uno con il rampino No buono Ci ha preso subito l'iground Scendo 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 Oh mio dio quanto ce la siamo vista brutta Eh questo pure è bravo Oh no 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 Ok 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 ce ne andiamo ce ne andiamo da qui Oh mio dio ci sono 7000 player che jumpano Ah ma siamo in tre rega Ecco perché se la stanno prendendo tutti con me Eh mi sa proprio che la nostra fine è vicina Se non quel tizio dietro l'albero Io non gli posso assolutamente sparare a quel tizio Deve essere nostro alleato Vi prego sparatevi e poi mi intrometto io Devo sviscitare fino alla fine Oh mio dio non mi sono per niente reso conto che siamo arrivati in top 5 e addirittura in top 3 Occhio si stanno sparando rega Quello è quel tizio forte Io devo assolutamente riuscire a killare quel tizio lì È il più forte di tutti C'è anche un airdrop furbetto Che se si posasse sopra lo potrei pure prendere Ma ovviamente si è posato sotto Occhio 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 Lui è scarso Lui è scarso Faccio che non gli sparo Voglio sparare ovviamente a quello più forte Ok si stanno sparando Avviciniamoci A cosa diavolo sta sparando Ok 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 Lui ha sia rampino che arma di kit rega È un animale È un animale Ah no aspettate Ma l'arma di kit ce l'ha Quello che avevamo sotto di lì E noi gli abbiamo sparato Oh mio dio no Forse abbiamo fatto Sì abbiamo fatto davvero un errore Ok siamo scesi una marea rega Oh mio dio Ma perché se la prendono con me Scusate ma affaitate tra di voi Noi abbiamo 68 Di vita E questo ci vuole venire a prendere Oh nooo la fine più brutta che potevamo fare Killati da dietro da Simon Doss Pensa un po' chi c'ha killato Amici miei comunque la nostra top 3 onestissima ce la siamo portata a casa E per concludere il discorso Marvel supereroi così in generale Attenzione perché nella nuova mappa della season 4 potrebbe proprio palesarsi il quartier generale degli Avengers Ma non vi sembra anche una sorta di lama Quindi potrebbe anche essere una sorta di palazzone lama Con dentro i nostri supereroi Con dentro gli Avengers Ovviamente appena usciranno altre news Ve le porterò sul canale Quindi mi raccomando iscrivetevi a questo canale Attivando la campagna delle notifiche Droppate subito un bel like se ancora non l'avete fatto E all'interno del mio supporto a un creatore Vi ricordo O scusate All'interno del vostro supporto a un creatore Vi ricordo il mio codice R4 Inseritelo subitissimo Perché stanno per arrivare dei contest fuori di testa Only for you Quindi mi raccomando inserite il mio codice Perché andrò a regalare Penso proprio 100 pass battaglia solo per voi Io vi lascio sopra il vostro schermo due video Che sicuramente ancora non avete visto Quindi cliccate su uno o cliccate sull'altro Mi raccomando i mi piace Sono fondamentali per questi nuovi video E noi ci rivediamo prestissimo Con tanti altri nuovi video E... L'estra